E' morto a 86 anni negli Stati Uniti Jacques D'Ambouas, considerato una leggenda della danza. Era nato nel 1934 nel Massachusetts da padre irlandese e madre di origini canadesi e dopo essersi trasferito a New York cominciò a seguire lezioni di danza già all'età di 15 anni. Pochi anni dopo divenne il primo ballerino del New York City Ballet dove mise in scena anche sue coreografie. Negli anni 50 prese parte a diverse commedie musicali. Nel 1976 D'Ambouas fondò il National Dance Institute per avviare alla danza ai bambini e la storia di questa scuola divenne un documentario premiato con un Oscar nel 1984. Oltre a numerosi altri riconoscimenti, D'Ambouas per il suo lavoro ha ricevuto la MacArthur Fellowship nel 1990, il Kennedy Center Honors nel 1995 e la National Medal of Arts nel 1998. D'Ambouas è stato sposato con la fotografa ed ex ballerina Carolyn George, morta nel 2009, dalla quale ha avuto quattro figli tra cui il ballerino e coreografo Christopher D'Ambouas e la ballerina Charlotte D'Ambouas.